Ciao, sono Luca di Mr. Gadget. Dopo qualche settimana di riposo, di disintossicazione dalle recensioni tecnologiche, sono pronto a tornare. Ho provato a lungo, l'ho fatto per diverse settimane, un prodotto che secondo me rappresenta una soluzione molto interessante. Si chiama Huawei P Smart. Affronto questo telefono, il nuovo Huawei P Smart, dopo qualche settimana di prova, ho voluto fare un test proprio molto approfondito per verificarne qualità, pregi e eventuali difetti per un prodotto che viene venduto a poco più di 200 euro ed è secondo me un rapporto qualità-prezzo davvero eccellente. Intanto un display 18 noni con una definizione Full HD, quindi 1080x2160 pixel, il lato corto è la metà in pratica di quello lungo. Questa è la caratteristica dei 18 noni. Altro elemento, diciamo, di differenziazione di questo prodotto è la doppia fotocamera. 13 megapixel e 2 megapixel abbinati serve per dare l'effetto di profondità, mentre la fotocamera anteriore è da 8 megapixel. Specifico subito una cosa, sto usando questo telefono collegando solo il Wi-Fi, non ho inserito la SIM, volendo potete utilizzarne due, oppure una SIM e una microSD. Il processore è un Kirin 659, questo vuol dire che il telefono è discretamente veloce, ha un'ottima qualità e reattività. Tra l'altro c'è un dettaglio importante, questo telefono ha Android nella sua versione 8.0, al suo interno e questo vuol dire tra l'altro che è un telefono comunque con un livello di aggiornamento notevole rispetto a molti altri concorrenti invece che sono fermi ancora ad Android 7.0. Non cambia molto in superficie, ma cambia molto sotto il cofano, soprattutto in vista di futuri aggiornamenti sempre che ne arriveranno. Allora abbiamo detto 5,65 pollici di diagonale, 1080x2160 il numero dei pixel, un buon rapporto tra la dimensione del display e la superficie totale, siamo circa al 76%. Ma questi sono tutti i dati che potete trovare anche essenzialmente online, non è necessario che vi li ripeta io. Il processore 659 è lo stesso che viene inserito in molti altri prodotti del mondo Huawei, tra questi il Mate 10 Lite, l'Honor 7X ed è un processore che secondo me svolge tutti i lavori che deve fare in modo egregio. L'unica cosa quando lo utilizzate per giocare c'è il rischio essenzialmente che si surriscaldi un po' e nel lungo periodo, ecco qui avete visto una delle funzionalità, questo swipe per ridurre la dimensione dello schermo, nel lungo periodo diciamo che quando giocate con giochi particolarmente esigenti c'è il rischio che qualche difficoltà arrivi. Vi faccio vedere alcune delle funzioni importanti, ad esempio la navigazione di sistema potete scegliere essenzialmente se far sparire la barra di navigazione quindi essenzialmente farla comparire con uno swipe verso l'alto oppure se volete, oltre a poter personalizzare intanto la barra di navigazione con i comandi che volete, potete scegliere di avere questo menu veloce. vuol dire che appare questo tasto, premendolo e lasciandolo, avete tutta la spiegazione qui, premendolo e lasciandolo tornate alla home, con un doppio tasto, con un doppio tocco tornate indietro e invece sollevando il pulsante, se ci sono delle applicazioni aperte, prendete e trascinandolo in questo modo avete la possibilità di usare il multitasking, è un'alternativa rispetto al menu classico che vedete nella parte inferiore. Tra l'altro quando attivate il menu veloce, ve lo faccio vedere in questo punto, potete scegliere di nascondere la barra di navigazione, per qualcuno potrebbe essere un'alternativa migliore. Avete tra l'altro anche delle opzioni come appunto il controllo con una mano che vi ho fatto vedere prima, scivolando praticamente in questo modo sul display potete ridurre la dimensione e poi volendo avete la tastiera mobile che potete spostare lungo lo schermo, è un tipo di funzionalità che io non utilizzo mai. E poi la possibilità di usare le gestures, quindi ad esempio di capovolgere il telefono per disattivare le chiamate in arrivo e le suono delle sveglie, e invece quello di essenzialmente prendere, scivolare con tre dita per acquisire uno screenshot. Se volete tra l'altro potete usare anche il doppio tocco per attivare e disattivare lo schermo. Tra le altre opzioni che avete tra l'altro avanzate, volendo avete anche la possibilità con il doppio tocco del tasto volume di accendere la fotocamera e di scattare. Curiosamente vi viene fatto vedere anche in quanti secondi viene scattata la fotografia. adesso perché mi lascia sempre così un po' indifferente. Allora abbiamo visto navigazione quindi veloce, vorrei farvi vedere anche per qualche secondo, farvi sentire più che altro l'audio dell'altoparlante. Adesso vediamo anche come è fatto questo telefono. Vediamo un po' il dettaglio. un lato pulito, il lato dove il punto e il cassettino dove inserire la sim, che dovete aprire con il solito piripacchio, lo che è messo in dotazione nella confezione, parte superiore pulita. Questo lato con il volume rocker e il pulsante di accensione. Non sono molto appassionato di questi due tasti che sono in plastica, che fanno un rumore che non è proprio esaltante, ma ripeto parliamo di un telefono di 200 euro. Altoparlante attacco micro usb e connettore per le cuffie. Sottolineo che nella parte posteriore c'è il sensore per le impronte digitali che potete utilizzare anche per accedere alle notifiche, rispondere al telefono, insomma tutte le funzionalità delle gestures che sono legate dunque a questa superficie che è tattile, che serve per le impronte digitali. Fotocamera 13 e 2 megapixel, adesso dopo avervi fatto sentire l'audio di Radio Number One vi farò sentire anche essenzialmente come funziona il telefono, sentiamo l'audio intanto, come funziona poi la fotocamera. Allora, non c'è un volume altissimo e onestamente neanche una qualità del suono, ma questo insomma è tutto sommato un altoparlante che io vedo sempre come utilizzo in viva voce, non tanto per l'ascolto di musica che non avrà mai una buona qualità, per la funzione viva voce va più che bene. Fotocamera. Allora, io ho resettato come al solito, quindi adesso mi fa rivedere tutte le opzioni disponibili, si accede al menu della fotocamera in questo modo, se volete la foto pro avete il controllo di tutti i vari dettagli, mentre sempre con questo swipe potete accedere anche a Pro Video, quindi essenzialmente potete controllare l'esposizione, i punti di messa a fuoco e poi vedete volendo la ripresa HDR, il light painting, il time lapse e la ripresa panorama. Quando fate la fotografia con la fotocamera principale, con questo pulsante attivate, essenzialmente ce la farò adesso, ecco vedete la modalità verticale attivata, in questo modo essenzialmente voi potete scattare un ritratto e con questo bottone che vedete qui attivate e disattivate invece l'effetto bocchè, la sfocatura, cioè dietro il vostro soggetto. Qui avete l'apertura ampia come accade anche negli altri telefoni e queste invece sono le immagini in movimento, il corrispettivo delle live photos di Apple. Se usate la fotocamera anteriore avete sempre la modalità portrait che funziona in questo caso con, vedete sempre l'effetto bocchè attivato o disattivato, funziona però con un intervento software, non con la profondità data dalla doppia fotocamera come nella parte anteriore. Insomma, un prodotto di fatture discrete secondo me, ha delle caratteristiche tra l'altro anche carine, questo può fare l'effetto bridge per il wifi, cioè si può trasformare in una sorta di hotspot, entrati in una stanza dove il segnale è così così, prende il segnale dal wifi e lo ripropone per altri apparati che sono nella stessa stanza potenziandone il segnale. La costruzione è discreta, l'alluminio agganciato alla plastica nella parte posteriore, l'interfaccia è sempre Mewi che a me non fa proprio impazzire, però insomma diciamo che per poco più di 200 euro che il suo prezzo attuale, il nome smart di questo telefono è molto 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 giustificato. Per me questo è un prodotto assolutamente promosso per il rapporto qualità-prezzo, davvero convincente. Per me questo è un prodotto assolutamente promosso per l'interfaccia, per me questo è un prodotto assolutamente promosso per l'interfaccia.